Alessandro Cavaliere hai sostituito lo squalificato Gianluigi Tavone sulla panchina della Chaminade avete vinto una partita chiave contro il Canosa Sì, era fondamentale come aveva detto anche il mister durante la settimana fare questi tre punti in primis perché giocavamo in casa e in secondo perché comunque andiamo incontro alla nostra sosta, al nostro riposo per cui mettere punti davanti alle dirette concorrenti è sempre favorevole per chi poi deve fare la sosta, quindi c'è andata bene e meglio così La sosta è un handicap, viene considerato come una sconfitta? Ma diciamo di sì, nel senso che interrompi un ritmo di partite ben avviato in cui c'erano risultati positivi da un po' di tempo quindi speriamo non si riveli un handicap comunque, fa parte del campionato quindi ci fermiamo Siete saldamente al comando ma soprattutto avete vinto un trittico di partite ultimo contro Canosa, Molfetta e Giovinazzo che era fondamentale da espugnare come trittico di partite Sì, fondamentale come hai detto tu questo trittico, era chiave, cioè era proprio fondamentale come hai detto tu vincere le due partite casalinghe È venuta anche la vittoria a Molfetta negli ultimi secondi ancora più fondamentale perché in un campo ostico come quello di Molfetta è fuori casa quindi ovviamente sono stati nove punti ben messi nel nostro sacco, nel nostro bagaglio speriamo di continuare così e testa la prossima partita Il primo tempo è finito 3 a 1 per voi, il secondo 3 a 3, ma ovviamente si conta il totale accusate sempre e troppo un calo fisico e mentale nella ripresa? Diciamo che il nostro gioco è molto dispendioso quindi in più mettici il fatto che la scuola avversaria era sotto nel risultato quindi loro dovevano venire per forza un po' a prenderci Ne è scaturito un 3 pari nella seconda frazione che però non ha compromesso il risultato finale quindi va bene così i ragazzi sono stati bravi a fare quello che il mister gli ha detto durante la settimana